Il gol della Juventus al 14esimo minuto di mezzo allo svantaggio Paolo Di Bala. Il quarto gol consecutivo in Serie A per Paolo Di Bala non gli capitava in Italia dal 2014 quando giocava con il Palermo. Combinazione molto agile quasi da calcetto per la Juventus con Pjanic si è inserito Di Bala.